Direttore, siamo all'evento qui nel Parco Avventura di Biccari, siamo anche abbinati a un evento, quello vostro, della musica di Capitanata. Ecco, qual è il primo impatto con questa location? Beh, questa location ormai ci è nota perché è già il terzo anno che partecipiamo insieme a Downy Avventura, questa bella manifestazione, questa bella idea di portare la musica nella natura, che mi sembra una cosa davvero molto bella. Noi portiamo gli studenti selezionati che suonano per le nostre rassegne, per i nostri concerti e davvero con molto entusiasmo loro vengono, secondo me è una cosa veramente fantastica. Senta, io farei anche il po' il punto della situazione, conservatorio comunque cresce sempre di più, molto seguito e poi porta sempre un nome prestigioso, quello di Umberto Giordano. Ecco, facciamo un po' rapidamente il punto della situazione di questo anno appena trascorso. È stato un anno molto impegnativo, insomma, un po' perché abbiamo dovuto fare un po' una revisione di regolamenti e, insomma, da un punto di vista didattico abbiamo dovuto cambiare alcune cose. E poi abbiamo, noi abbiamo una stagione invernale, abbiamo otto concerti fra febbraio e marzo, poi abbiamo venti concerti in questa rassegna storica, ormai questa è la ventitresima edizione, anzi ventuno perché c'è anche questo, io considero quelli di Foggia. Poi abbiamo, avremo adesso a Rodi Garganico, dove c'è la nostra sessione staccata, abbiamo una settimana un campus in cui ci sarà per otto giorni musica, prove d'orchestra, cioè si vivrà i nostri ragazzi sia di Foggia che di Rodi, lavoreranno lì insieme ai docenti, sarà una bellissima manifestazione e poi inizierà il nuovo anno accademico, il prossimo anno, il 22 novembre, faremo il concerto solito di inaugurazione dell'anno accademico prossimo. Senta, per ritornare invece qui alla musica, nel bosco, alle corti di Capitanata, ecco quanto è importante poi alla fine non solo studiare, tra virgolette, al chiuso, ma andare fuori e presentarsi al pubblico? Andare fuori e presentarsi al pubblico è la mission di ogni musicista naturalmente, perché studiare a casa va bene, però poi bisogna mettere in evidenza quello che si è lavorato. Naturalmente andare all'aperto proprio, noi già la stagione di corti di Capitanata e, quando il tempo ce lo consente, è in Chiostro di Santa Chiara, quindi è una location all'aperto molto bella, acusticamente molto valida. Certo, qui è un po' più problematico da un punto di vista acustico, però quella soluzione lì aiuta molto, perché è una specie di amplificatore naturale e quindi dà una bella spinta anche sonora agli strumenti. Mario De Angelis, allora facciamo il punto della situazione su questa manifestazione che sta raccogliendo tanto successo, parlo proprio di questa specifica di corti di Capitanata che si sposta in Downy Avventura e questo mi sembra, se non ricordo male, che sia il terzo appuntamento. Sì, è il terzo appuntamento, ospitiamo, siamo onorati di ospitare il Conservatorio in questa kermesse che organizza ogni anno nei posti più belli, quindi immaginiamo che questo è considerato da loro uno dei posti, insomma, nuovi, per cui promuovere la musica, l'arte in generale è un posto pancico. E ospitiamo per il terzo anno una rassegna fatta di giovani musicisti, come sempre, e proviamo, diciamo sì, a dare un messaggio forte al territorio, cioè che lo sviluppo di questo territorio passa attraverso iniziative di questo tipo. Noi dobbiamo costruire una storia e dobbiamo costruire qualcosa che poi in effetti possa costituire un punto di partenza. La sostenibilità di questo territorio, lo sviluppo delle aere interne passa attraverso le sinergie con tutti coloro che praticamente fanno attività di questo tipo. Ecco, noi facciamo un passo indietro nel ricordare le varie iniziative, ma mirate poi con vari appuntamenti. Quest'anno vogliamo ricordare anche che il Bosco Cura è stata una manifestazione importante e ci sarà ancora un proseguo di appuntamenti. Sì, questa è stata un'iniziativa che abbiamo praticamente preparato un po' di tempo prima, perché è chiaro che portare in Bosco malati che hanno malattie neurodegenerative, tipo l'Alzheimer è un progetto abbastanza ambizioso, però mi sembra che almeno dai primi risultati che abbiamo avuto e dai primi ritorni è stato veramente interessante. E quindi proveremo a rifarlo, a ripeterlo, addirittura vorremmo strutturare un progetto per la valorizzazione del nostro territorio che possa effettivamente considerare anche iniziative di questo tipo, quindi organizzare servizi che vanno in questa direzione, qualcosa di innovativo. E' chiaro che ci sono tantissime altre iniziative che stiamo portando avanti, tra cui, io continuo a dire, fra 15 giorni avremo ancora musica in Bosco, lo faremo però con una musica diversa, sempre con i ragazzi del conservatore della cattedra jazz di Rodi Garganico e quindi avremo un'altra iniziativa, la faremo di sera, sperimenteremo per la prima volta anche questa cosa qua. Quindi voglio dire, è un anno in cui stiamo sperimentando altre cose, immaginiamo anche tante contaminazioni con l'arte, con la natura, con l'esperienza che noi ormai ci portiamo da qualche anno dietro. Quindi stiamo cercando veramente di creare, di tracciare un percorso e questo percorso chiaramente vede il coinvolgimento di tutto il territorio. Quindi molte iniziative, alcune sono già stabilite da calendario, altre invece verranno fuori man mano che ci saranno anche nuove idee. Senta Presidente, si è partiti pian pianino, no? Poi vi ricordiamo anche la situazione delle case sugli alberi, la prima, la seconda e poi via dicendo. Insomma, comunque il territorio sta rispondendo, anche perché poi, al di là del clima che può essere positivo o negativo, purtroppo lì non ci si può intervenire, però sicuramente c'è una risposta, la gente si comincia a avvicinare sempre di più, vuol dire che va bene, cioè la gente capisce, comprende ed è curiosa. Beh, questo è un grande salto culturale, è chiaro che bisogna lavorare molto su questo, però come dicevo prima i risultati sono positivi, abbiamo avuto il primo anno circa 600 pernottamenti, che non sono pochi, noi parliamo comunque di 4 case sugli alberi, che poi di fatto per noi è stata veramente una scommessa e che invece ha riscosso successo, tant'è vero che poi siamo stati tra l'altro chiamati, interpellati da anche testate giornalistiche, diciamo nazionali, perché erano curiosi di conoscere un'iniziativa di questo tipo, che poi è realizzata in un'area del sud, perché sostanzialmente queste iniziative ne troviamo molto presenti al nord e in aree di montagna. Chiaramente noi stiamo cercando di costruire la nostra strada, cioè costruire la nostra strada e portare avanti iniziative culturali che possono identificare questo territorio. È una cosa che comunque ci fa molto piacere, sapere che per esempio quest'anno abbiamo già confermato le prenotazioni dell'anno scorso e siamo a metà stagione, quindi dobbiamo ancora arrivare a settembre, ottobre, quindi alla fine dell'anno tireremo le nostre, diciamo, le conclusioni, le somme per capire effettivamente se questa è la strada giusta. E poi ci aspettiamo chiaramente una risposta anche da parte della gente, insomma. Il tutto è così, passa attraverso, diciamo, le risposte che ci danno soprattutto gli spettatori di questa giornata, gli utenti del parco, gli utenti del nostro aree da picnic, le persone che vengono a trascorrere una giornata nella serenità, nella tranquillità della natura. Passa tutto attraverso la natura e il messaggio che noi vogliamo dare è soprattutto quello. La natura può effettivamente costituire oggi un punto di riferimento per questo territorio per cui dove costruire iniziative e far passare iniziative anche di tipo economico. Lo possiamo fare. Chiudiamo. Tanti sacrifici privati, tanti sacrifici con la cooperazione, ma poi dovremmo chiedere anche contributi a sostegno di questo. Sono provocatorio. Come risponde poi l'eventualità della politica, la politica in genere con progetti o quant'altro? Io non voglio essere critico con la politica perché chiaramente a volte diventa molto facile parlare o sparlare di politica. Io ritengo soltanto una cosa, che come privato noi stiamo facendo un gran lavoro e chiaramente a volte ci sentiamo soli e non abbiamo la risposta di quelli della politica. Però posso dire che nello stesso tempo ci sono associazioni datoriali come la cooperazione che si sta muovendo molto, sta dando una grossa mano. Al di là del fatto che io faccia parte o meno della cooperazione, sono rappresentanti di conf cooperative, lo faccio anche a livello nazionale. Noi promuoviamo queste iniziative anche in altri ambiti nazionali e tra l'altro lo dico in maniera molto diciamo così trasparente. Abbiamo portato l'attenzione nazionale di questo esperimento, di queste esperienze che stiamo facendo e tra l'altro è stato portato all'interno del primo rapporto, il primo rapporto annuale sulle foreste come best practice e quindi siamo contenti di questo. Cioè vuole dire Biccari che si trova praticamente nel centro sud, perché faccio fatica a dire sud perché non siamo neanche sud, però è riuscita a portare diciamo come iniziativa e tra l'altro prendere come esempio di multifunzionalità, di valorizzazione del bosco è stata citata in un rapporto annuale sulle foreste e questo ci fa molto piacere, visto che comunque è una delle poche iniziative al sud. Questo diciamo è il punto di partenza, poi chiaramente la politica se ha occhi per osservare, se riesce a capire che noi abbiamo bisogno anche di loro molto abilmente ci darà pure una mano, spero di sì insomma, però è chiaro che in questo momento qua è molto più interessata ad altro. E allora oggi parte una esperienza, ancora un'esperienza con il bosco, probabilmente siete stati già presenti in altre manifestazioni, però qui abbiamo una location diversa. Allora io partirei ovviamente prima nella presentazione, ovviamente a che anno siete, come si stanno svolgendo gli studi e ovviamente la sensazione di suonare qui a Downy Avventura. Io partirei ovviamente in ordine con Riccardo Cavaliere che è un sax contralto mi sembra. Esatto, sono il sassofonista dello Iule Saxophone Quartet e come già dicevo appunto è già la seconda volta che noi quest'anno ci troviamo a partecipare a questa importante manifestazione che sicuramente per noi che appartiene a questo territorio è un'opportunità per dare anche un taglio diverso a quello che per noi è la dimensione del concerto, in una location così suggestiva che da un lato sicuramente ci pone delle difficoltà anche diverse e dall'altro ci dà la possibilità di trovare il confronto con un pubblico comunque anche diverso in un certo senso. Bene, invece passiamo con Domenico Pedone che già si vede è un violinista. Salve, sono appunto Domenico Pedone, sono iscritto al Bienio di Violino e il prossimo anno mi trasferirò a studiare in Germania e questa location è sicuramente un posto meraviglioso per testare le nostre capacità e avvicinarci a quello che è un luogo per noi abbastanza desueto, cioè non consono alle nostre abitudini e quindi sarà un'esperienza molto interessante e poi sarà bellissimo avvicinarsi a quello che è in realtà la nostra vera madre, la nostra natura. Senti, a te però ci viene da chiedere spontaneamente, ci hai detto che ti trasferirai, perché e dove? Mi trasferirò a Weimar il prossimo anno come studente Erasmus, come anche Riccardo che andrà in Inghilterra e andrò a Weimar per un solo anno. Bene, invece passiamo, forse mi sa che ritorniamo invece con una musica un po' più particolare rispetto alle altre parliamo di Fisarmonica con Gabriele Lamparella. Sì, sono un fisarmonicista, sono iscritto al quarto pre-accademico di Fisarmonica del Conservatorio di Foggia. Allora, tra le diverse esperienze che ho potuto vivere, finora devo dire che questa mi mancava e sinceramente è spettacolare questo luogo, anche se come hanno anticipato gli altri, comunque non è propriamente consono appunto a quello che è appunto il nostro ambito, però comunque penso che sarà un'esperienza unica comunque, è indimenticabile. Altri tre componenti di questa bella manifestazione che ci vede impegnati nel Downy Avventura e partiamo a sentire Sant'Eleone che è saxofono tenore. Sì, sono Sant'Eleone, studente del Conservatorio Umberto Giordano, sono al terzo anno del triennio. Niente, noi tre siamo gli altri componenti dello Iule Saxophone Quartet. Sicuramente sarà un'esperienza magnifica, noi già la seconda volta che siamo invitati in questa splendida location. e niente, ci fa sempre molto piacere partecipare a questi eventi nella natura. Eri già stato qui a Biccari, quindi già conosci la location, ovviamente una bella location. E la stessa cosa, se non ricordo male, Antonio Russo che è un saxofono baritono. Eri già presente, quindi però sentiamo a che punto sono anche a questo punto gli studi. Beh, noi tre siamo tutti allo stesso percorso, quindi siamo al terzo anno del triennio in Conservatorio e come appunto ricordava siamo stati già invitati in questa bellissima manifestazione e non per niente la rassegna si chiama Musica nelle Corti di Capitanata. Quindi già il nome della rassegna dà l'idea di una manifestazione che non ha come intento solo quello di una divulgazione nel territorio esclusivamente della città di Foggia ma appunto nelle Corti di Capitanata, quindi che possa estendersi anche a questo territorio. Questa, l'abbiamo detto anche l'anno scorso, lo diciamo che quest'anno è una manifestazione lodevole perché mira a aprire queste zone, questi territori, questo meraviglioso patrimonio che noi abbiamo in Capitanata e aprirle al pubblico, aprirle all'arte, alla musica e quindi ringraziamo molto i gestori del parco per la possibilità e ringraziamo molto il Conservatorio. Bene, allora chiudiamo con Antonio Bruno che come lo scorso anno non siamo solo omonimi però chiudiamo nel ricordare ovviamente quali sono le sensazioni ancora una volta, il piano studi e soprattutto poi quale sarà il continuo per questa stagione della manifestazione che ormai siamo arrivati alla ventunesima edizione se non vado errato di Corti di Capitanata. Sì, allora io sono Antonio Bruno, sono iscritto al terzo anno del triennio accademico al Conservatorio di Foggia e avrò la laurea appunto quest'anno ad ottobre e vi presento un attimo il programma che vi proponiamo quest'oggi suoneremo una musica prettamente minimalista e suoneremo in particolare due pezzi di un compositore italiano sassofonista che è Paolo Carlomè che sono Risveglio e Sanni anche i termini come osserviamo ci rimandano un po' all'atmosfera minimalista in generale e infine concluderemo con il quarto tempo del quartetto di Philip Glass scritto appunto per quattro sassofoni. Allora noi vi auguriamo il buon lavoro scolastico innanzitutto che sia di sicuro successo ovviamente anche il continuo lavorativo nel vostro mondo che avete scelto e magari ci rivedremo il prossimo anno. Grazie. 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 Grazie.